Buonasera a tutti, eccoci per l'ultimo incontro dei mercoledì della Biblioteca del Vespucci Colombo. Siamo arrivati alla fine, siamo all'undicesimo incontro, ci siamo conosciuti con A che serve una biblioteca scolastica. Oggi finiremo con A che servono le lingue straniere. Abbiamo parlato di storia dell'arte, di geografia e paesaggio, abbiamo parlato di matematica, di letteratura italiana soprattutto e poi anche di fumetto, di musica e di cinema. Spero che vi siano piaciuti i nostri incontri e io ora passo la parola a Riccardo Greco che oggi modellerà il nostro evento, la nostra tavola rotonda e poi ci ritroveremo alla fine per i saluti conclusivi per questa nostra lunga avventura e per la promozione di una nuova iniziativa della Biblioteca del Vespucci Colombo. Ciao Riccardo, ti passo la parola e buon a che servono le letterature straniere. Benissimo, buonasera a tutti ragazzi, buonasera colleghi, ringrazio Francesca Luseroni per questa opportunità e anche chi insieme a lei lavora dietro le quinte di questa iniziativa che mi pare veramente interessante e importante, tanto più in un anno così particolare, così difficile in cui è arrivato anche il collega Giuseppe Nicolosi che saluto e arriveranno piano piano tutti i nostri colleghi e amici. Bene, un anno particolare, quindi questi incontri servono anche per tenerci informati, in contatto, condividere idee e questa serie di incontri con delle domande a cosa servono, a cosa servono, non so se poi sarà possibile soddisfarli con delle risposte esaustive, arriveremo in fondo e ognuno trarrà le proprie conseguenze e risposte. Ecco, io ero stato sollecitato nell'invitare qualcuno che potesse dialogare con me su questo quesito, su questa domanda, a cosa servono le lingue straniere, e io ho pensato a due persone che stimo molto, a cui voglio anche molto bene, e che sono Clelia Bettini da Lisbona e Federico Saracini da Beirut, per cui due mondi molto lontani tra di loro e abbastanza anche lontani dal nostro. Perché ho scelto queste due persone? Beh, perché mi sono immaginato un po' come i nostri ragazzi, quando vivono le loro lezioni di lingua straniera, uno o due che siano, e fanno parte di una classe. In quel momento vivono il presente e stanno studiando tutti quanti gli stessi strumenti, gli stessi elementi grammaticali, lessicali, che poi dovranno mettere insieme per costruire appunto una lingua. Ma nessuno di loro probabilmente in questo momento sa a cosa servirà questo studio, che tipo di risvolto, che tipo di sorpresa la vita potrebbe poi riservarli o proporli. E siccome io con Clelia Bettini, con Federico Saracini ho avuto un pochino la stessa dinamica, abbiamo condiviso percorsi di studio insieme, quasi insieme e insieme a tratti. Vi spiego perché. Clelia Bettini ha studiato le mie stesse lingue straniere, ma l'ha fatto inizialmente a Pisa, ha studiato quindi letteratura portoghese, brasiliana e spagnola, mentre io stavo studiando a Siena sempre queste stesse letterature. Tra l'altro io con il professor Tabucchi e lei invece con la professoressa Lancastre, che era la moglie di Tabucchi. Invece Federico Saracini ha studiato spagnolo e portoghese con me a Siena con Tabucchi. E poi dopo c'è un secondo round perché Clelia è venuta a Siena, che già frequentava da tempo per altri motivi, motivi anche personali e familiari, e abbiamo fatto un percorso di dottorato insieme, per cui abbiamo studiato nelle stesse aule delle stesse biblioteche, abbiamo seguito seminari insieme, abbiamo fatto anche e organizzato dei seminari proprio in collaborazione, sebbene però facessimo sostanzialmente due dottorati diversi, ne facevo uno in lusitanistica, quindi proprio in portoghese, letteratura portoghese, lei invece guardava già alla grandezza del mondo, all'Europa, facendo un percorso di letterature comparate. Ma sostanzialmente poi si studiavano quasi le stesse cose, ci scambiavamo libri, avevamo momenti anche extrascolastici in cui ci piaceva condividere le scoperte che stavamo facendo, riviste e quant'altro. Federico Saracini poi a un certo punto è sparito, ha iniziato a viaggiare, è stato in Africa, è stato... Federico, facciamo parlare un attimo Clelia per cavalleria, così per gentilezza, e poi tu intanto inizia a pensare tutte queste tappe che ti hanno portato ora in Livano, com'è che si sono snodate. Quindi la prima domanda è che ci fai lì? E la faccia a Clelia Bettini. Che ci fai a Lisbona? Allora, buonasera a tutti. Intanto vi ringrazio anche io di questo invito, che mi onora moltissimo. Cercherò di rispondere a questa difficile domanda della che servono le lingue straniere, perché servono a tutto e a niente, e sono le cose più belle quelle che servono a tutto e a niente. Cosa ci faccio a Lisbona? Beh, ci vivo, ci vivo dal 1999, grossomodo in pianta stabile, come eravamo stabili noi, peraltro anche Tardo e Federico. Stabili siamo stati poco in quegli anni della giovinezza e dell'università, e questo forse è già un primo indizio di a che cosa servono le lingue straniere. Servono a poter essere instabili serenamente, avere molte case, molti paesi e molti amici. Quindi come dicevo dal 1999 grossomodo vivo qui, adesso diciamo ci vivo da adulta, questa casa che vedete è mia, e di là c'è il mio compagno Riccardo che è portoghese e la nostra bambina Violetta che ha quasi nove anni, per fortuna è a scuola, è tornata a scuola come tutti i bambini portoghesi. Dunque adesso siamo in tre che viviamo qui insieme a Lisbona. Non so se Riccardo vuoi già passare la parola a Federico o vuoi che dica qualcos'altro, dimmi tu. Cosa fai, ce lo puoi dire, Clelia? Ufficialmente, ma anche quali sono poi i tuoi interessi intorno alle lingue? Traduci, scrivi, di lavoro fai una cosa... Non ti ho sentito, sì. Ah ok, perché forse c'è un po' di... Non ti ho sentito, eri proprio sparito. C'è un po' di delay, ti chiedevo. Cosa fai, sostanzialmente, se non vuoi dire esattamente dove lavori, per motivi e non importa, ma ti occupi di traduzione, ti occupi di archivistica, ti occupi di ricerca, cosa fai a Lisbona? Ma sì, in questi anni ho fatto tantissime cose, ho soprattutto studiato, ho fatto un percorso di dottorato, come hai giustamente detto tu, e successivamente di post-dottorato, ho insegnato all'Università di Coimbra, che è un'università molto antica, più o meno a 200 chilometri a nord da Lisbona, e poi ho sempre tradotto, letteratura, saggi, poesia, un po' di tutto, ho lavorato abbastanza anche con il cinema, soprattutto con il cinema italiano, portando in Portogallo, inventandoci un festival di cinema italiano, grazie a quale abbiamo portato in Portogallo tantissimi film, attori, autori e professionisti del cinema, e quant'altro legato a questi mondi, diciamo, dell'arte e della performance, e adesso lavoro all'Istituto Italiano di Cultura, che come forse alcuni di voi sapranno, è un ufficio del Ministero degli Affari e Assi della Cooperazione Internazionale, che si occupa in ogni paese, ce ne sono 93 nel mondo, di promuovere la cultura italiana, nel paese ospite dove si trova. Quindi, in sostanza, un lavoro di anche mediazione di lingue e di culture, ancora una volta per ritornare alla domanda iniziale a che cosa servono le lingue straniere. Servono a tantissime cose, in giovani abbiamo detto a qualcuna e ne usciranno fuori altre. Bene, Clelia, grazie. Si passa la parola un attimo a Federico Saracini, perché ci dica anche lui come è finito a Beirut, e quali sono i passaggi più importanti, riassumendo chiaramente tutto questo suo peregrinare, che ormai dura da tanto tempo. E forse una parola che posso suggerire, che appena ha detto Clelia, è proprio cooperazione internazionale, perché Federico, in effetti, è in questo mondo. O no? Cosa ci racconti, Federico? Oh, sì. Mi senti? Perché ho degli strumenti un po' antichi rispetto alla tecnologia moderna. Mi senti? No? Sì, sì. Ok, perfetto. Cosa faccio? Come sono finito a Beirut? Sono finito a Beirut quattro anni fa, per progetti di cooperazione, appunto, il lavoro con Medici Senza Frontiere, e quindi, diciamo, modo per spostarsi nel mondo me lo trovano. Però, diciamo, il percorso è iniziato molti anni prima, sul finire della laurea di lingue, dove abbiamo stato anche insieme, io mi ero interessato più al, diciamo, al legame delle lingue rispetto allo studio del mondo, diciamo, quindi alla storia contemporanea, quello che succedeva intorno a noi, quindi mi ero un po' più interessato e appassionato alla contemporaneità, e quindi, diciamo, le lingue, io le ho sempre approcciate da un punto di vista strumentale, diciamo, più per avere la facilità di capire e poter anche viaggiare. In quegli anni lì mi sono trovato un master di azione umanitaria, mi interessava moltissimo, e da lì poi ho cominciato, dopo gli studi, una missione segue l'altra, si fa carriera come in tante altre professioni, e ci si ritrova poi in posti come Beirut. Beirut sono venuto poi anche con la famiglia, c'è anche mia moglie e figlio di sei anni, fra l'altro a me le lingue sono servite anche a livello personale, perché mia moglie è anglo-francese, il nostro figlio è nato in Irlanda, quindi anche lui, diciamo, esprime la sua multiculturalità anche con il certificato di nascita, diciamo, e quindi, forzatamente poi mi servono anche a casa, non solo sul posto di lavoro. Non lo so, come percorso professionale, poi le lingue studiate in realtà forse le ho anche utilizzate meno a livello professionale, perché poi mi sono dovuto un po' più specializzare con l'inglese e il francese, perché i contesti in collaborato alla fine erano o francofoni o anglofoni, quindi si serve anche poi una spinta in più, anche dopo gli studi regolari, scuola e università, per cercare di allargare un po' lo sguardo anche agli altri contesti linguistici che esistono, perché ora farò una citazione dagli studi universitari, tra noi tre che ci conosciamo sono il meno acculturato, però questa mi è rimasta impressa dal primo anno di università che Wittgenstein, che era un filosofo delle lingue, diceva che i limiti del suo mondo, i limiti del suo linguaggio erano i limiti del suo mondo e questo è quello che mi è sempre rimasto impresso a me, perché effettivamente il conoscere più lingue ti permette di conoscere più persone, espandere progressivamente il perimetro in cui ci si può trovare a proprio agio, ci si trova a proprio agio quando si capisce, perlomeno quando si interagisce con gli altri e quindi questo è sostanzialmente. Allora, una domanda secca a te che sei già in collegamento, ti vedo subito, perlomeno immediato e poi subito a Clelia e poi faccio una domanda a Clelia che dopo chiaramente è rivolta anche a te, ma quali e quante sono queste lingue che possiamo ritenere senza spocchia, senza superbia di conoscere effettivamente? Quante lingue parli Federico? A parte il senese voglio dire. A parte il senese che lo infilo ovunque perché io anche qua si sente già quando parlo in italiano, immaginatevi in lingua, diciamo io ho delle competenze linguistiche con una forza, con una forte cadenza toscana, però vabbè, parte vera, io ho studiato spagnolo e portoghese e poi ho approfondito francese e inglese per necessità professionali e più l'italiano, quindi cinque, però in realtà diciamo lo spagnolo e il portoghese l'ho un po' perso ultimamente perché sono veramente un bel po' d'anni che non li frevento, però ovviamente le lingue sono come andare in bicicletta, quindi voi studiatele, imparatele e poi capiterà sempre il momento di rispolverarle e con un po' di pratica ritorna, non so. Benissimo, e invece Clelia credo che abbia anche un altro asso nella manica, io vabbè lo so perché la conosco molto bene, ma c'è anche una lingua in più rispetto a queste quattro che ci uniscono e l'italiano ovviamente è la lingua di partenza, spara. Diciamo, il greco e il latino non contano. Però non è corretto perché sono lingue straniere anche quelle che servono tantissimo a quelle stesse cose a cui servono anche quelle moderne, ma no, il portoghese è la lingua che parlo meglio in assoluto, oltre alla mia lingua madre che è l'italiano. Lo spagnolo lo parlo abbastanza bene, l'inglese lo parlo bene, più o meno come lo spagnolo, il francese lo parlicchio e poi parlo un po' di turco, era quello che Riccardo voleva farmi dire perché appunto in quel caso i miei studi mi hanno portato a avvicinarmi a questa lingua. Perché in realtà non è mai così netta, diciamo, così definita la cosa, le ragioni che ci portano a studiare le lingue. Io non saprei dire se ho cominciato a studiare i testi del 500 portoghese dove si descriveva l'impero ottomano perché mi interessassero quei testi lì e in particolare come i portoghesi, quei portoghesi così lontani da noi del 500 guardavano all'altro per eccellenza che era il mondo musulmano e in particolare la grande potenza con cui rivaleggiavano in tutto l'Oriente che era l'impero ottomano. Non saprei dire se mi interessava questo, che mi interessava moltissimo, o in realtà mi interessava la Turchia e quindi banalmente cercavo una scusa per poter andarci a studiare il mio percorso che avevo fatto fino a quel punto. E questo secondo me è un nodo essenziale, cioè quello che deve guidare sempre, nello studio in generale, ma nello studio delle lingue, non è tanto la loro utilità o la spendibilità o tutti questi criteri un po' monetari che si applicano molto, che peraltro sono giusti, sono validi, non è che li neghi, però è la passione che ci deve muovere. Bisogna anche un po' affidarsi a questa passione, è una specie di istinto che ci fa venire voglia di andare, fammi un po' vedere, ma questi come parlano? Ma perché pronunciano le cose in quel modo? Ma cosa vuol dire una lingua suffissale? E perché io non la capisco? Insomma, seguire queste curiosità poi ci motiva, ci fa venire fuori quelle capacità che forse neppure noi pensiamo di avere. Perché parliamoci chiaro più o meno tutti e tre, mi sento di parlare per tutti e tre, tante di queste lingue che abbiamo studiato le abbiamo imparate quasi senza accorgercene, perché quando si è giovane le lingue si imparano anche un po' così, senza accorgercene, siamo fortunati. Man mano che l'età va avanti bisogna passare sempre più dal cervello, richiamarsi a meccanismi e strutture conosciute, ma quando si è giovane le lingue basta starci dentro e studiare un po', perché altrimenti restano zoppe, come si dice, e poi vengono fuori. Ed è la passione, talvolta diciamo si esprime dionisicamente con l'alcol, come sanno tutti i ragazzi che hanno fatto l'Erasmus, dove si dice sempre che quella lingua che di giorno all'università ci costa fatica parlare, improvvisamente la sera dopo qualche birra e pece, beh misteriosamente, poi seduti dal Dio Dioniso la parliamo benissimo. Quella è sempre la passione e quella è fondamentale, bisogna affidarsi un po' anche e crederci, trovarsene dentro queste passioni, perché tante volte non le vediamo subito, c'è qualcosa che ce le fa venire fuori, un amico, un professore, un romanzo, una poesia, un film, la musica, perché io credo tra le lingue e la musica, e non lo dico io, l'hanno detto tanti studiosi, filologi, prima di noi, c'è un legame fondamentale. Le lingue sono essenzialmente sonore, ecco, anche il latino e il greco, ora noi non le studiamo più così, c'è qualcuno che le studia così, ma insomma sono molto legate all'aspetto sonoro, per cui anche questo mi sento di dire, se ci sono artisti, musicisti, che appassionano, di cui si vuole capire veramente il senso profondo, non solo della musica, ma anche delle liriche che ci portano, ecco, questa può essere un'ottima chiave per scoprire le passioni che ci porteranno poi, chissà, a compiere quali giri e giravolte misteriose, imprevedibili, che comunque sono la cosa più bella dell'esistenza, ecco, almeno secondo me. Tra l'altro hai anticipato, in parte un pochino anche bruciato, una delle domande che vi avrei voluto fare, ma era normale, era scontato che succedesse questo, perché la mia riflessione si stava orientando verso questo quesito, questa domanda barra riflessione. Per appassionarsi di lingue straniere, quindi per decidere di dedicare il proprio tempo, i propri viaggi, la propria organizzazione anche logistica, familiare e quant'altro, nei confronti di un'altra lingua, quindi di un'altra cultura, quindi di un altro territorio, di un altro popolo, non risiede forse in nuce già nella nostra curiosità che sviluppiamo da bambini. La domanda è chiaramente rivolta a entrambi. Cioè, la scelta di studiare le lingue non è forse motivata anche in maniera così inconsapevole da un desiderio di ampliare il nostro mondo, il nostro universo, di buttare giù alcune barriere che magari nemmeno le soffriamo, non è che bisogna necessariamente fuggire dal posto, dal paese, dalla città dove siamo nati e cresciuti. Penso per te Livorno e Pisa, penso per Federico Siena e anche una Siena tutto sommato rurale, molto bella, che certo a volte ci sta larga, a volte ci sta stretta, stessa Livorno, a volte sembra grande, a volte sembra piccola. Ecco, questa insofferenza, questo desiderio di barcare gli oceani era già in voi da piccolini? Cioè, la scelta in fondo di studiare le lingue va d'accordo, va al braccetto con una smania di sapere, una curiosità positiva, un qualcosa che vi ha spinto davvero a dire, sì, io questo patrimonio ce l'ho, mi sento italiano, mi sento toscano, mi sento quello che volete, non vi voglio imboccare nessun tipo di concerto, di identità, però sono capaci di amare anche qualcos'altro, sono capaci di amare anche l'altro. Quindi, ora senza andare né nell'antropologia troppo approfondita, e approfondita né nella psicanalisi, ma si ama l'altro amando le lingue? Domanda a tutte e due, vi prego di essere brevi, perché se no, la domanda è un po' complicata. Grazie. Parto io? Parto io? Sì. Allora, la domanda è si ama... Dimola un secondo. Da sono... Amare le lingue e anche amare l'altro, amare l'alterità? Eh beh, sì, senz'altro. Sono due cose collegate, secondo me. Uno è quello che il più grande poeta di lingua portoghese, o uno dei più grandi, che è stato Fernando Pessoa, chiamava desasso sego, cioè il contrario del sossego, il contrario della calma, l'inquietudine, no? Il contrario della calma. Quindi un'inquietudine che almeno io mi sento di rispondere per me e per Riccardo, visto che ci conosciamo da quando siamo nati, è come una cosa che abbiamo sempre avuto dentro di noi. L'inquietudine è un bellissimo motore a uscire fuori da situazioni che possono essere anche molto belle e divertenti, come è il caso di Livorno o della campagna senese o di Siana per Federico. E poi, certo, si impara ad amare molto meglio quando si parlano altre lingue, perché si capiscono cose profonde dell'altro, sono strutture di pensiero e emotive molto profonde che se continuiamo a applicare sempre e solo unicamente le nostre categorie, le nostre strutture, non riusciamo a vedere e ci perdiamo una bella fetta di realtà oltre a, diciamo, non essere eticamente fra i migliori. Federico? Che dire, che aggiungere a queste parole? Poco, perché effettivamente è così e si ama, si ama. Poi magari a volte non si arriva ad amare l'altro, però si capisce molto di più, insomma. Partivo dal discorso prima sul viaggiare e ampliare i propri orizzonti. Così, più si può condividere e comprendersi e più si può arrivare ad andare più là da quello che ci viene presentato a prima vista. Non sapevo come è meglio dirlo. Poi ovviamente l'inquietudine, ora magari non avevo da ragazzino il disastrossego perché non sapevo nemmeno cosa volesse dire all'epoca, però riconosco oggi che l'ho sempre avuto. Io mi ricordo da bambino una volta presi la bici, non so, avevo avuto dieci anni, presi la bici, uno zainetto, ci misi dentro un po' di libri e giornali e partiti, se la vado. Poi dopo un paio di chilometri tornai a casa perché giustamente non avevo una meta fissa, però già da quel momento si mostrava una certa voglia di andare da qualche parte. Quello sì. Poi pian pianino è anche vero che la vita ti porta, io almeno ho avuto questa voglia e necessità di partire, andare, vedere, scoprire e poi pian pianino mettere a fuoco cosa davvero ci interessa di più o meno e cosa voler scoprire e approfondire di più o di meno. Con le lingue, quindi prendere magari un cammino letterario piuttosto che un altro o anche appunto determinati luoghi in particolare. Insomma, poi uno si affina con l'età, diciamo. Certo, è vero che avere un po' già l'irriquitezza in gioventù un po' aiuta perché è quella di essere curioso forzatamente. Che ancora, può essere anche la curiosità di... Io vengo dalla campagna senese che già per noi il cambiamento è tra Siena città dove abito io e il Chianti fiorentino perché già lì ci sono tre sfumature di linguaggio diverse già quello è un viaggio volendo e questo vabbè, in Toscana vale come tra Pisa e Livorno e qualsiasi altro quindi il viaggio può essere appunto anche nel breve raggio e è sempre una questione di lingua anche qui è una voglia di conoscere e la lingua aiuta a conoscere meglio. Direi, Federico, che è sacrosante, è verissimo tutto questo ed è anche palese come poi la nostra ricerca dell'altro di una diversità che sia una ricchezza che apporti una crescita nel nostro bagaglio culturale nella nostra apertura mentale lo confermi il fatto che Clelia è sposata con un portoghese tu sei sposata con una ragazza che è anglo-francese, irlandese non so nemmeno io perché c'è troppe elementi messi insieme io sono sposato con una spagnola nata in Marocco insomma, ecco, in fin dei conti andare un pochino nel dato anagrafico nello stato civile si ha poi la conferma che la nostra ricerca doveva anche soddisfare una perlomeno colmare una non so, un'aspettativa di di orizzonti ecco, quindi noi abbiamo cominciato a colmare distanze prima di tutto con le lingue poi l'abbiamo fatta anche con gli affetti e in questi mesi che poi è diventato ormai più di un anno non mi sono accorto mai come in questi mesi quanto mi mancassero quelle persone quegli amici cari come per esempio siete voi o Alfonso che doveva essere qua con noi doveva essere il terzo collegamento lui per esempio è un pugliese che ha studiato a Siena ha studiato a Strasburgo e ora vive in Svizzera dove ha una compagna a Svizzera ecco, siamo veramente tanti esempi diversi di una stessa inquietude e di una stessa ricerca e questo è curioso insomma, chiaramente non siamo ambasciatori di nessun messaggio in particolare perché non c'è un messaggio universale quando si parla di passione di amore, di ricerca e di inquietudini però credo che per chi ci sta ascoltando vedere che persone così simili in fondo così diverse abbiano poi riscontrato lo stesso tipo di appagamento spero di una ricerca personale è quanto meno indicativo quanto meno curioso vi leggo però un messaggio che vedo qua in chat del collega Giuseppe Nicolosi che ci dice leggere autori stranieri può aprire mondi diversi o lo stesso mondo visto con occhi diversi volendo consigliare ai giovani una lettura è preferibile un classico o un contemporaneo? Allora, siccome tra un po' vi chiederò anche dei consigli di lettura proviamo a rispondere anche sulla scorta della suggestione della domanda di Giuseppe Nicolosi se preferiremmo consigliare ai colleghi che ci ascoltano ma anche ai ragazzi che ci ascoltano un classico o un contemporaneo anche se poi un contemporaneo può essere un classico perché per entrare nel canone a volte ci vogliono pochissimi anni a seconda dei casi invece detto questo ci riflettete poi magari mi rispondete dopo nei consigli per gli acquisti come se fossimo in una trasmissione televisiva con pubblicità ecco c'è una musa c'è un mentore per voi c'è una persona che vi ha incoraggiato che sia il babbo il nonno lo zio il vicino di casa uno scrittore un cantante un qualcuno che nel momento giusto vi ha segnato la strada io per esempio ce l'ho però parlo per ultimo quindi vi cedo la parola decidete voi chi è più pronto chi ha la risposta che li urge silenzio di tomba ovviamente inizio io dai stavolta Federico abipita Clelia io devo dire allora durante gli studi all'università che poi è stato anche da lì forse ho iniziato come dicevo prima a guardare un po' il mondo più dal punto di vista sociale e della storia anche che ci accade intorno studiando portoghese era il programma di di letteratura africana di lingua portoghese e studiando con Franca Villa nostro collega amico e adesso insegnante all'università di Genova mi consigliò di leggere questo testo che in italiano suona in culo al mondo di Antonio Lobo Antunes che è un racconto delle sue vicende in quanto medico che si ritrova in quanto medico portoghese durante la guerra di Portogallo contro le le indipendenze la indipendenza il movimento indipendentista in Angola e appunto sono le sue vicende durante questo questo conflitto e che mi ha aperto appunto in portoghese Oscurs de Giudas ora scusatemi se non mi ricordo la pronuncia esatta e e appunto mi mi aveva aperto questo mondo perché tramite la la lingua che era il portoghese all'epoca venivo catapultato in questa esperienza di terreno molto dura difficile e drammatica con un punto di vista non quello imperialista dell'allora chiamiamola ancora impero portoghese in un certo senso e da quel momento in poi ho cominciato a maturare questa curiosità che poi mi ha portato a fare il lavoro che faccio dove purtroppo si avvicina alle guerre alle epidemie ora l'epidemia ci si avvicina anche a Livorno ultimamente però diciamo ecco le epidemie quelle magari di colera che da noi non sono molto magari comuni o appunto eventi più grandi di noi ecco ecco subentro io sì allora io ne ho avuti ne ho avuti tanti diciamo di stimoli allo studio della lingua ma ne volevo ricordare uno in primis su tutti che è familiare e cioè una storia che si racconta nella mia famiglia del mio nonno paterno il padre di mio padre che era militare di carriera e che quando arrivò l'8 settembre del 43 disartò perché non era fascista non era mai stato fascista e quindi voleva unirsi agli alleati per fare la guerra di resistenza risalendo giù dal sud Italia per poi diciamo liberare l'Italia quello che poi effettivamente è avvenuto traccio il racconto della diciamo della fuga dalla caserma peraltro abbastanza divertente ma una volta scappato recupera ovviamente sua moglie e suo figlio che allora era mio padre che è nato dopo la guerra ma suo fratello più grande mio zio e scappano diretti al 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 paese natale del mio nonno che è Casale Marittimo fino a Cecimi e in questo viaggio però in treno non hanno i documenti perché non hanno i documenti perché ovviamente rischiavano moltissimo essendo lui un disertore a quell'epoca non ci andavano di scartino con i disertori decisero di affrontare questo rischio di viaggiare senza documenti e ovviamente il treno si ferma sale il comando tedesco con l'ufficiale che comincia a dare gli ordini in tedesco a tutti quanti perché non sale l'italiano e quindi chiede se qualcuno tra i passeggeri di quel treno conosce il tedesco e quindi in grado di fare da interprete e mio nonno che aveva sempre avuto la passione delle lingue ha fatto la scuola militare non è che avesse avuto particolare formazione linguistica ma insomma aveva studiato un po' di tedesco riuscì a farli da interprete e dato che riuscì a fare l'interprete all'ufficiale tedesco a loro non furono chiesti i documenti e così si salvarono e questa storia mi ha sempre fatto riflettere cioè su come diciamo una competenza che tante volte viene anche giudicata forse superflua in quel caso lì ha veramente salvato la vita a mio nonna a mio nonna a mio zio e quindi di riflesso a mio padre a me a mia cugina e a tutti quanti noi con quella sua capacità di fare da interpreti un momento così stressante così terribile senza documenti in pieno e questo direi il primo stimolo che ha avuto i secondi il terzo e il quarto me li sono trovati sul cammino mio e la letteratura senza dubbio per me ma insomma forse di questo ne parla Riccardo perché l'abbiamo anche condiviso il mentor che ci ha portato poi a diventare di più quello che siamo che siamo oggi ok allora tocca tocca a me raccontare qualcosa e io andavo piuttosto male a matematica quando studiavo agli superiori e purtroppo la scuola che avevo scelto era una scuola che invece sulle materie scientifiche aveva insomma una sua insistenza perché era appunto un percorso caratterizzato a questo tipo di studio per cui avevo diverse ore disponibili durante la mattinata nelle quali non volendo studiare matematica e rompendo abbastanza le scatole scusate l'espressione al professore spesso venivo allontanato di modo che potessi fare la famosa giratina e in quei minuti quelle mezz'ore che avevo a disposizione invece di andare a bighellonare mi arrampicavo nella biblioteca di questa scuola in cui ho studiato e scartavellavo gli scaffali fino a scoprire un poeta che ha già citato Clelia prima Fernando Pessoa che era per me leggibile fruibile al tempo soltanto in traduzione traduzione di Antonio Tabucchi perché al tempo era al tempo e poi lo stato per quasi tutta la sua carriera diciamo uno dei topoi uno degli argomenti più importanti per il suo magistero come docente come diciamo curriculum di traduttore ben insomma leggevo Pessoa tradotto da Tabucchi lo stesso Tabucchi che poi era amico del mio babbo e amico anche del babbo di Clelia Bettini e che insegnava letteratura portoghese e brasiliana proprio all'università di Siena quindi quando sono arrivato in fondo a questo percorso un pochino così travagliato di studente liceale il desiderio era di chiaramente lasciare il percorso scientifico che si era dimostrato poco vicino alle mie attitudini e imbracciare invece quello più letterario e rivolto allo studio delle lingue straniere andavo bene a inglese mi piaceva ogni tipo di letteratura e mi ero innamorata appunto di questa letteratura portoghese in traduzione ma non nego che qualche poesia in portoghese me l'ero anche trascritta su un fogliettino e attaccata sull'armadio perché così quando mi svegliavo la mattina la potevo imparare a memoria ho sempre utilizzato questo vecchio trucco che non ho certo inventato io cioè le parole che mi piacevano di più o che dovevo studiare perché mi sarebbero state chieste e le appiccicavo sullo specchio sull'avatrice sul frigo e anche qualche poesia l'ho attaccata sull'armadio perché mi teneva a compagnia e perché poi la volevo davvero imparare a memoria l'aver poi conosciuto bene Tabucchi come professore e anche come amico dell'entourage familiare mi ha chiaramente segnato tantissimo perché mi ha portato ad avere un rapporto più più approfondito speciale sicuramente privilegiato con un mondo che a quel tempo era lontano era lontanissimo il Portogallo davvero ora con Ryan era parte questo periodo che chiaramente non ci permette di viaggiare come vorremmo ma prima dell'invenzione dei voli low cost per un ragazzo per uno studente un viaggio in Portogallo non era poi così semplice in macchina ad averci la macchina ci volevano due giorni in aereo con Alitalia scusate ci volevano 400.000 lire ma chi ce l'aveva 400.000 lire per andare in Portogallo per cui uno il Portogallo iniziava a studiarlo a conoscerlo a amarlo tramite le guide che sono qua dietro tutta questa biblioteca che vedete di letteratura portoghese si faceva lì la prima conoscenza con questo mondo con questa cultura con questo immaginario diverso e Tabuchi chiaramente era il medium di questa scoperta era una figura che serviva per fare da tramite un mediatore diremmo oggi culturale che mi permetteva di scoprire prima ancora di scoprire e poi sono iniziati i primi viaggi tra l'altro il primo che fece in Portogallo era il Natale del 97 andai da solo a passare il Natale laggiù c'era c'era Antonio Tabuchi ma poi andò via perché rientrava in Italia per fare il Natale insomma alla fine lo andai a salutare ma la mia esperienza fu completamente solitaria sulla scorta chiaramente dei suoi suggerimenti mi aveva detto di andare a trovare degli amici mi aveva detto di fare delle ricerche in determinati posti perché lì avrei scoperto un certo tipo di Portogallo effettivamente è stato così e l'amore poi è cresciuto è cresciuto sono nati poi anche diciamo degli studi accessori perché ogni tanto ci consigliava una lettura non di portoghese di Portogallo ma di portoghese africano come per esempio anche quello Bantunes in Culo al Mondo che ha citato prima Federico Saracini che trovate in chat se volete guardare il riferimento bibliografico lo trovate là ed è veramente un bel libro e poi chiaramente il Brasile ecco la scoperta del Brasile è stata un qualcosa di incredibile perché se il Portogallo era lontano immaginiamoci il Brasile e quindi il primo viaggio in Brasile e poi il secondo viaggio in Brasile ecco che a un certo punto veramente una persona può diventare il Grimaldello può diventare il Viatico può diventare il Medium per scoprire che il mondo non finisce mai il mondo è enorme ecco in questo mondo si può però iniziare a conoscere anche già attraverso i libri e anzi è meglio arrivarci con l'illusione della letteratura perché poi in fondo il mondo è quello che noi vogliamo interpretare che vogliamo vedere e avere degli strumenti in più per capirlo serve anche a farcelo in qualche modo in qualche modo piacere a evitare la crudezza dell'impatto Tukur per evitare anche le delusioni che ci può dare la nostra incapacità di comunicare ecco portarsi dietro un bagaglio culturale dei buoni consigli una pacca sulla spalla data da un professore un amico uno zio un nonno che è riuscito a salvarsi grazie alla conoscenza del tedesco ci segnano ci segnano profondamente ecco e per me non nascondo che la pacca sulla spalla viene proprio da Antonio Tabucchi e poi un'altra persona chiaramente lo voglio ricordare perché ero molto legato anche a questo professore Antonio Melis Antonio Melis insegnava una cosa bellissima poi cerco di essere breve perché voglio anche rispondere a eventuali domande e restituire la parola a voi Antonio Melis che abbiamo conosciuto bene tutti e tre Clelia Federico ed io perché abbiamo seguito le sue lezioni e poi era diventato anche un amico ci ha fatto scoprire l'America Latina e le tradizioni diciamo l'ettonologia e la letteratura applicata all'ettonologia c'è tutta una maniera di leggere la letteratura con le basi dell'antropologia e anche quello è stata una scoperta incredibile perché sì il Portogallo la Spagna poi il Brasile ma il Sud America non finisce Centro America anche non finiscono mai è veramente un partire per un treno che ha mille fermate anzi forse queste fermate non si possono neanche contare da quante sono ed ecco che questo è il secondo è sicuramente il secondo grande riferimento incoraggiamento che ho trovato nel mio percorso nella mia carriera di studente e poi di studioso delle lingue straniere ci sono delle domande vediamo un pochino nella chat mi pare mi pare di no allora io quasi quasi approfitterei per restituirvi la parola se avete pensato a quali potrebbero essere i libri da consigliare ai nostri amici che ci stanno seguendo sul canale YouTube della scuola in chat e non so dov'altro perché penso che siano questi gli strumenti che abbiamo a disposizione dunque idee di lettura comincio io ok allora senza dubbio visto che lo leggeva anche il professor Ricardo Greco quando lo mandavano a fare la giratina direi Fernando Pessoa e in particolare il libro dell'inquietudine che non è è un libro diciamo che lui non ha mai finito quindi bisogna fidarsi da chi lo ha ricomposto di chi lo ha ricomposto sono tutti frammenti ma è un libro bellissimo su noi dentro come siamo su questa inquietudine che ci muove e su Lisbona perché è un libro che mi sento di consigliare a tutti di leggere è uscita una nuova edizione da poco nella traduzione di Antonio Tabruti che secondo me ovviamente è la traduzione per ora ancora più bella di quel libro poi senza dubbio Cuore di Tenebra di Conrad e comunque tutto Conrad qualunque Conrad va bene in particolare Cuore di Tenebra e La linea d'ombra per me La linea d'ombra è anche un grandissimo libro per chi sta sul limitare della giovinezza perché perché Conrad era uno scrittore in realtà polacco che ha scritto in inglese strepitoso e quindi è sempre per me un po' il simbolo di come si può scrivere nella lingua di un altro che è una cosa che cerchiamo di fare un po' anche noi ma è difficile Conrad ce l'ha fatta benissimo e poi io direi il Don Quixote perché il Don Quixote è vero che è un libro che può risultare veramente difficile all'inizio per la forma in cui è scritto perché è un libro antico però divertentissimo appassionante leggerlo in traduzione oppure in spagnolo perché entrambi sia lo spagnolo che il portoghese non hanno quella caratteristica tipica dell'italiano che non è mai stata una lingua vera ma una lingua soltanto e per fortuna letterale e colta quindi non è così diverso dallo spagnolo contemporaneo ci si può arrivare con delle buone note si legge bene sì ciao vai grazie Clelia sì prego ora io vi ho dato già uno però lo lasciamo da parte ne prendo altri tre dai uno grande romanzo novecentesco che adoro ancora questo non c'entra niente con lo spagnolo e il portoghese è Viaggio al termine della notte di Céline che è il mio libro preferito già quando era all'università perché vabbè tramite appunto la sua esperienza una sorta di autobiografia sostanzialmente anche se ci racconta veramente quello che era quel pezzo di novecento insomma che non c'è più diciamo e che anche insomma è anche un'introspezione un po' dell'essere umano diciamo tra un incontro e l'altro un altro invece a cui ci sono legato diciamo professionalmente in francese si chiama Asmar et les causes perdu non so se ci sia in italiano forse sì è pubblicato da Gallimard in Francia scusate guardo se lo trovo siamo su Asmar et les causes perdu non lo vedo comunque è un romanzo di Jean-Christophe Ruffin che lui è stato un ambasciatore francese diplomatico che ha anche collaborato con me di Città Frontiere per questo un po' ci sono legato e che è sostanzialmente una storia è il racconto dal di dentro dell'esperienza di un coordinatore di progetto sul terreno praticamente in Eritrea che vive una serie di drammi che quindi è interessante anche per vedere i giochi i giochi politici dietro anche a determinati eventi che possono capitare in un in un paese colpito da 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 un conflitto o da una da eventi drammatici diciamo il terzo un po' più di svago ma fin da ragazzino con questo ci sono me lo porto sempre dietro ci sono come si dice affezionato è l'isola del tesoro di Stevenson che sicuramente in libreria ce l'avete già però insomma è un romanzo di avventura di un ragazzino come molti sanno che è l'avventura pirata la 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 scoperta di questo mondo con anche nella versione inglese quella italiana non mi ricordo ma nella versione inglese anche molto c'è quel linguaggio tipico e anche a volte incomprensibile piratesco comunque che lo rende ancora più affascinante secondo me ecco questi tre sostanzialmente bene per quanto mi riguarda sono quelle domande che mi lasciano sempre così di pietra perché non so mai quale io in realtà ho un file nel telefonino in cui segno sempre la mia lista dei libri preferiti mi devo fermare a dieci e poi a dieci non riesco mai a fermarmi allora quando vado oltre mi dovrei mi impongo di cancellarne uno e non mi riesce per cui all'inizio ho detto mi segno i dieci libri che mi hanno colpito maggiormente e poi è una lista che ormai è diventata troppo lunga ne prendo qualcuno che forse in questa lista neanche c'è chiaramente Tabucchi però mi è stato suggerito di di scegliere un autore straniero allora vi frego in questo modo Requiem di Tabucchi perché Requiem Tabucchi l'ha scritto in portoghese e questo è curioso per vari aspetti uno per riflettere come uno scrittore chiama la sua lingua e la conosce in maniera sopraffina ed è di un'eleganza incredibile quindi vi consiglio di leggere Tabucchi in generale arriva a un certo punto all'esigenza al desiderio di scrivere una storia in portoghese perché è la lingua migliore per raccontare quello che è contenuto nel libro per quel tipo di storia è la lingua migliore e poi è anche una sorta di piccola guida di Lisbona perché c'è tutto un itinerario che ormai che Tabucchi è canonizzato e che a Lisbona vengono tantissimi italiani questo itinerario viene anche proprio percorso con il librino alla mano alla ricerca dei punti che vengono raccontati non so il caffè a Brasileiro oppure il cimitero d'Usprasere se altri punti che ora non vi sto ad inanellare per cui uno scrittore italiano che però ha scritto un'opera in portoghese e quindi in una lingua adottiva poi mi viene in mente per quanto riguarda la Spagna invece un classicone quindi di Javier Marias che in Italia è tradotto e pubblicato da Inaudi e in particolare non perché quello sia forse il suo romanzo più bello e mi riferisco a Berta Isla ma perché in Berta Isla c'è tutta una spy story e il suo compagno Thomas Nevinson è uno che parla così bene tutte le lingue che incrocia nella sua strada che non si riesce a capire quale sia la sua lingua madre e poi chiaramente questo con delle vicissitudini incredibili rocambolesche lo porta anche a vivere un'esistenza al limite della sola esistenza si moltiplica questa esistenza proprio perché si moltiplica il suo essere presente con le lingue è un dono che alla fine diventa un'arma a doppio taglio ma non vi voglio rivelare troppo e poi tornando alla lingua portoghese questa volta prodando in Brasile di Gima Reins Rosa lo dico lentamente così la nostra collega Francesca Luseroni ha tempo di digitarlo oppure di cercarlo Gima Reins Rosa è uno scrittore grandioso della metà del secolo scorso quindi della metà del 1900 che tra le tante cose belle che ha scritto ha scritto un romanzo fiume che si chiama Grande Sertown Veredas che sarebbe Grande Sertown tradotto e pubblicato dalla Feltrinelli tra l'altro la traduzione è molto bella è veramente un capolavoro difficilissimo da leggere ma vi invito a farlo perché per quale motivo perché Gima Reins Rosa ci narra le vicende di una porzione del Brasile che potrebbe essere la campagna di uno stato remotissimo quale peraltro il Sertown effettivamente è ma che diventa paradigma del mondo intero c'è le riflessioni le passioni le sofferenze le dinamiche di vita di morte la dicotomia bene e male Dio diavolo e tutte le riflessioni che mette in questo romanzo in realtà appartengono a tutti è uno di quei grandi romanzi che sono ambientati in un punto X che diventa poi il mondo ecco che il Sertown a un certo punto questa regione arida aridissima del Brasile inospitale in cui veramente le persone stentano a sopravvivere diventa a un certo punto uno scenario alla cavalleria rusticana con passioni formidabili con scorribande con polveroni sparatorie e mi ricordo sempre una frase che mi è rimasta impressa è che uno dei personaggi Riobaldo se non sbaglio a un certo punto dice Dio Dio se esiste venga qua e venga armato ecco che l'uomo si misura anche con una dimensione superiore chiaramente fuori dal suo vivere quotidiano però con le armi che ha a disposizione in fondo gli uomini sono così si misurano con quello che non conoscono con le armi che hanno ecco allora io prima di chiudere poi non so se Francesca vuole fare qualche aggiunta chiederci qualcosa tirare le somme fare saluti le armi che noi abbiamo in questo momento in questa conferenza questo incontro tra tre amici sono quelle di approfondire e studiare ancora nuove lingue quindi le lingue sono armi positive sono strumenti sono un metodo che noi abbiamo per indagare il mondo brevissimamente allora a cosa servono queste lingue Federico sì posso dire solo una cosa perché non vorrei capisco che questo è un evento legato alla libreria quindi bisogna promuovere biblioteca scusa però anche cioè bisogna anche spaventare un po' meno chi con i libri magari ha meno destrezza ma comunque può imparare delle lingue perché come diceva anche prima Clelia anche la musica ci può servire infatti io avevo un amico a scuola studente come me all'epoca 16-17 anni era un batterista pazzo e lui non doveva studiare francese per forza perché a scuola era francese e quindi gli toccava però era così appassionato di musica che lui si prendeva tutti i testi dei suoi cantanti preferiti in inglese e se li traduceva e piano piano con il suo dizionaretto traduci oggi traduci domani è riuscito a imparare una lingua sostanzialmente perché ovviamente poi risentendo la pronuncia con le canzoni seguendo un po' i testi e anche questo è fondamentale come anche qualcuno chiedeva in chat prima chi meglio il classico o il contemporaneo ma non è meglio quello che vi piace perché alla fine è quello è la passione vostra quando vi sentite che un qualcosa vi suona familiare e vi piace affrontatelo se non tramite un libro tramite appunto o una canzone o un ragazzi c'è Netflix oggi usatelo al meglio ci sono mille film in lingua originale mettete i sottotitoli e vedrete che anche quello è un grosso aiuto ecco la letteratura giustamente al suo ruolo e noi ci siamo molto legati veniamo da quel percorso lì però insomma affrontare una lingua e impararla può avvenire anche in maniere in maniere diverse grazie grazie Federico grazie Clelia deve se vuole dare la sua ultima pillola su a cosa servono queste lingue straniere in fondo e poi passiamo la parola a Francesca così allora servono tantissime cose le abbiamo dette ne abbiamo dette una parte ma ce ne sono anche altre ma servono molto ad essere più felici ecco essere felici ad essere persone migliori che secondo me sono le due tendenze che bisogna seguire nella vita essere felici ed essere persone sempre migliori nel rapporto che hanno con il mondo in cui vivono e con le persone con cui hanno a che fare quindi sono importantissime e poi sono divertenti le lingue sono molto divertenti e un'ultima cosa che mi viene da dire è le lingue in Italia noi ce le abbiamo sempre intorno a noi siamo una delle nazioni dove ci sono più lingue ma non solo perché c'è una forte presenza straniera come potrebbe suggerire anche malevolmente qualcuno ma perché nel nostro paese si parlano tantissimi dialetti che non sono altro che la distinzione tra una lingua e un dialetto è puramente arbitraria una rottura di palle inventata dai filologi ma in realtà sono lingue diverse che nascono da percorsi diversi che ha fatto il latino a volte neanche il latino altre lingue che c'erano come sappiamo le minoranze linguistiche albanese o greche ce l'abbiamo tutti intorno per cui ragazzi osservatele osservate i vostri amici osservate gli amici che fate al campeggio da un'altra parte come parlano e cosa vuol dire parlare in quel modo piuttosto che in un altro usare quell'espressione idiomatica scherzare in un certo modo piuttosto che in un altro quello è tutto lingue straniere è la stessa cosa e ci permette di essere più felici e persone migliori e vi saluto grazie Clelia grazie Federico Francesca buonasera di nuovo allora intanto ringrazio tutti voi ringrazio Riccardo che ha moderato questo bellissimo incontro ringrazio Federico e Clelia per averci portato le loro esperienze interessantissime penso che insomma le vostre storie siano state possano essere spunti importanti e preziosi anche la storia di Riccardo per i nostri studenti tra l'altro l'istituto Vespucci punta molto sulle lingue straniere abbiamo a parte l'insegnamento di due lingue e biennio poi abbiamo due indirizzi dove si punta molto sulle lingue l'indirizzo turistico dove viene aggiunta una terza lingua l'indirizzo internazionale dove addirittura viene aggiunta la terza lingua cinese quindi insomma molto proiettati anche verso il mondo estro-europeo e io vi ringrazio vi ringrazio per questo bel incontro e per anche i nostri consigli di lettura anche se credo come ha detto Federico la lettura e la letteratura non siano i soli i mezzi per poter imparare una lingua quindi vi ringrazio di nuovo e saluto tutti saluto tutti i nostri diciamo i nostri spettatori grazie per averci seguito per questi 11 incontri lunghi forse anche un po' troppo condensati a livello temporale e si conclude un ciclo però in realtà non è che proprio si conclude oggi abbiamo finito con le lingue straniere dopo domani cominciamo con un ciclo suddante perché la biblioteca del Vespucci Colombo non poteva non dedicare almeno tre incontri al 700 anni dalla morte del sommo poeta e abbiamo cercato di creare una formula che potesse piacere in questi eventi anche ai nostri studenti forse non ci hanno visto in troppi e ci auguriamo che visto che questi incontri sono poi possibili essere visti in differita sul canale youtube che i nostri studenti si avvicinino a che cosa serve e che magari ogni tanto diano una sbricciatina sul canale youtube della scuola per cercare un po' di rinfavitare da quello che è avvenuto fuori in queste discussioni in queste tavole rotonde che ci hanno accompagnato in questi mesi io e Lorenzo speriamo di poter organizzare eventi simili anche il prossimo anno e anzi chiediamo a tutti voi di darci dei suggerimenti per migliorare perché ci piacerebbe comunque creare e continuare a creare qualcosa di interessante all'interno della nostra biblioteca dare degli spunti utili per tutti noi e magari il prossimo anno fare anche degli eventi in presenza magari in modalità mista presenza e streaming allora io vi saluto di nuovo prima di farvi presentarvi l'evento dantesco vi saluto di nuovo i nostri ospiti di oggi ciao a tutti grazie grazie a tutti vi condivido l'evento di dante eccolo qua si vede sparo di sì lo state vedendo o no no non ancora ecco eccolo qua lo vedete ora sì mi auguro di sì eccolo qua quindi la biblioteca del Vespucci Colombo tre incontri 30 aprile 7 maggio e 14 maggio quando Vespucci incontro Dante lo nuovo no qui però mi sta partendo è cosa che non va bene scusate ma purtroppo ve lo dico a voce che è meglio abbiamo tre incontri dedicati quindi al sommo poeta il primo incontro sarà venerdì prossimo parleremo dei luoghi geografici della Divina Commedia e della storia verrà moderato da Michele Cecchini il secondo incontro che è il 7 maggio invece venerdì 7 maggio sempre alle 6 sul canale YouTube della scuola riguarderà la parte della letteratura e della filologia parlando anche della nuova edizione di Dante che è uscita con il giornale della Repubblica e l'ultimo incontro quello di venerdì 14 maggio invece parleremo della musica nella Divina Commedia e della storia dell'arte all'interno della Divina Commedia e l'arte al tempo di Dante quindi grazie di nuovo a tutti arrivederci e buona serata buona serata grazie grazie Francesca a tutti grazie a tutti